Chiedono al sindaco una Napoli più sicura ai rappresentanti di Gioventù Nazionale Napoli, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, alleanza nazionale. I rappresentanti del movimento hanno organizzato davanti alla sede del comune in piazza municipio un presidio per porre l'accento sulla patiscenza e la pericolosità di alcuni edifici cittadini, soprattutto in seguito alle tragedie che hanno colpito Napoli nelle scorse settimane. Ai nostri microfoni Emanuele Bifaro di Gioventù Nazionale. Gioventù Nazionale stasera è qui in piazza per un sit-in fuori Palazzo San Giacomo per denunciare i disastri che questa giunta ormai sta portando a casa, invece di successi sta accumulando disastri. Il sindaco De Magistris invece di fare passarelle con i grandi eventi, forse è bene che tenga presente invece l'ordinario della città, quindi continui colori che stanno avvenendo, non ultimo quello della Galleria Romberto. Ma certamente noi stiamo qui per protestare, qui in piazza, proprio per denunciare un fatto ormai da mesi, cioè che la città non è amministrata De Magistris. L'ultimo crollo è soltanto uno di una lunga serie, come quello che è avvenuto l'anno scorso alla mostra di una donna a Via Tasso. Quindi De Magistris è bene che gli pensi ad amministrare la città. Grazie.